Cari studenti, secondo tempo tra 10 più e Battipagliese, inizia il secondo tempo, batte appunto Mastrolia. Nelle immagini l'arbitro D'Amato avvia l'inizio del secondo tempo, il primo tempo è terminato, 1-0 a fuori di 10 più. Pallone per Romano, si cerca una triangolazione, ancora il bianconeri in azione. Palla che termina fuori, rimessa laterale a fuori di 10 più, batte appunto il giocatore Ferrara. Pallone che termina fuori, rimessa laterale per i bianconeri. Il lancio spostato sulla sinistra, l'apertura in area di rigore, pallone per Mastrolia, Mastrolia vicino al gol. Grande azione della Battipagliese che è penetrata in area di rigore, intanto adesso fa pressing. Pallone infatti che viene perso, recuperato da bianconeri, ancora Battipagliese in azione. Il lancio in profondità ci prova, la squadra con Mastrolia, pallone per Cerrato, di noi in azione, Leo in gioco. Tiro finale, vicino al gol. Vicino al gol la Battipagliese. Con Leo, di nuovo lui protagonista in questa azione. Intanto a fondo area. Bianconeri ancora in azione. Lancio in verticale, pallone per Mastrolia. Sfera ribattuta. Palleggio. Bianconero, bravissimo. Davvero un elogio per Nicoletti. Grande cavalcata la sua, eccolo le immagini. Nicoletti, bravissimo, stava penetrando in area di rigore. Palla per Romano. Di nuovo ancora Nicoletti. Bravo Nicoletti in questo caso, passaggio al retrato. Iniziativa di Ricco, Ricco, pallone per Leo. Il sinistro, la rovesciata. Palla fermata. Nicoletti. Ancora Nicoletti. Sfera persa, recuperata poi da Antonello Sellitti. In area di rigore 10 più, ma viene fermata l'iniziativa. E intanto c'è un fallo secondo l'arbitro. Punizione. a favore della battipagliese. Il lancio in avanti. Pallone per Nicoletti. Leo. Il lancio in verticale. Bianco, neri in azione. Di nuovo Monetti. Ancora Leo. Il sinistro, l'appoggio in area di rigore. Palla per Pisaturo. Intervento difensivo. Battipagliese che questo secondo tempo è diversa come versione. Romano. Stop di petto. La triangolazione per Pisaturo. Di nuovo rimessa laterale. Vediamo cosa si inventa Pisaturo. L'appoggio per Romano. Indietreggia la palla. Arricco. In area di rigore. Battipagliese vicino al gol. Grande azione degna di nota della compagine di mister Malandrino che stava pareggiando il risultato quando sono passati appena 4 minuti dall'inizio del secondo tempo. Andretta. Lancia in profondità. padrone che termina nelle braccia del portiere Andretta. fallo punizione. Il lancio in area di rigore. Palla fermata dai biancoleri. molto decisi. Di nuovo 10 più in azione. In questo caso. Rimessa laterale. Il tacco. Leo interviene. Battipagliese che avanza. la verticalizzazione della sera da parte di Mastrolia. Ottima la sua giocata. Pallone per Romano. Romano. Romano ancora in gioco. Romano in area di rigore per Mastrolia. Grande azione davvero della Battipagliese. Un'azione tutta di prima. È stato servito Romano il quale in realtà alla fine non ha puntato la porta ma ha scelto una versione diversa dell'azione. Intanto rimessa laterale. Padrone in area di rigore. Nicoletti. Intanto c'è uno strattonamento secondo l'arbitro ed è punizione. fallo. Quindi punizione a favore della squadra 10+. batte la squadra 10 più in azione. attraverso la squadra 10 più in azione. Allora. Grazie. 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 Catone sul pallone il destro di Catone palo di Catone vicino al gol, 10 più e la sfera poi no, vediamo un attimo è fondo area, ha sfiorato il gol intanto ancora i 10 più in azione pallone recuperato da Leo punizione rimessa laterale bianconera pallone fuori in azione la scuola la battipaiese, un gioco che viene concentrato maggiormente al centro campo vediamo cosa succede in questo caso batte la squadra 10 più in azione, c'è una fuga sulla trale destro penna di un'area di rigore e interviene poi la squadra tiro finale, attenzione della squadra 10 più viene ribattuto il pallone di nuovo in azione la squadra 10 più, c'è un cross da parte di Ferrara sfera che viene ribattuta, rimessa laterale ed è il corner per la squadra 10 più in azione il destro pallone in area di rigore occasione propizia per la squadra 10 più di poter raddoppiare il risultato ma in questo caso non viene sfruttata in toto l'azione anche se è pericolosa in area di rigore per la battipagliese fondo area a Mendola l'arbitro fa ripetere Nicoletti sul pallone il destro di nuovo il bianco neri in azione si lancia in profondità la battipagliese Romano il suo dribbling il lancio il diagonale per Pisaturo il cross in area di rigore bello questo cross precisa l'azione di gioco ma nessuno interviene sul pallone solo Andretta che blocca e lancia il pallone oltre il centro campo Nicoletti ottimo il suo intervento pallone per Troiano è la volta di Menduto ancora Nicoletti Nicoletti lancio in verticale Monetti Monetti pallone per Nicoletti Nicoletti in gioco Pallone a centro campo Pianconeri in azione una palla spostata sull'aterale sinistro per Pisaturo il cross in area di rigore rete rete battipagliese che pareggia il risultato quindi 1 a 1 rete del giocatore Mastro quindi 1 a 1 tra dieci più e battipagliese quindi si torna a giocare da centro campo abbiamo superato 13 minuti del secondo tempo si riapre la gara la sfera al giocatore Claudio Sellitti di noi in gioco Antonello Sellitti che avanza sul laterale destro la triangolazione viene persa battipagliese che recupera la sfera l'indietro per Andretta battipagliese ancora in gioco la palla per Cerrato Mastro Lìa rimessa laterale se ne incarica Pisaturo Ricco Ricco il cross per Mastro Lìa Nicoletti Troiano palla aerea pallone per Mastro Lìa Nicoletti passaggio passaggio arretrato ancora per il portiere ancora Nicoletti pressing del 10 più attenzione in area di rigore la sfera a Mendole interviene in due momenti però 10 più si è resa pericolosa con un pressing straordinario intanto vediamo i bianconeri che avanzano Romano bravissimo ancora Romano ed ecco in azione Mastro Lìa pallon tiro crossa in area di rigore palla nelle braccia del portiere Andretta il lancio pallone fermato pallone per Amendola palla per Romano Troiano svetta di testa il giocatore Monetti Pisaturo Pisaturo in gioco deviazione il cross in area di rigore Mastro Lìa vicino al gol Mastro Lìa vicino al gol ma impegna severamente Andretta che blocca pallone oltre il centrocampo attenzione 10 più che si ripropone in avanti ma Amendola sta ben attento in questo caso Ricco Battipagliese in gioco Nicoletti Amendola sarà che termina fuori rimessa laterale pallone in profondità sfera che termina fuori fondo area battipagliese in azione fallo punizione il diagonale per Mastro Lìa Leo Lancia in verticale deviazione deviazione battipagliese in gioco lancia per Mastro Lìa in area di rigore secondo l'arbitro c'è un fallo punizione intanto abbiamo superato i 20 minuti di gioco 1 a 1 tra 10 più e battipagliese andretta andretta si cerca di potersi lanciare in area di rigore palla fermata palla fermata Biagoneri in azione palla ribattuta Nicoletti 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 in azione il destro pallone per Monetti deviazione palla fuori pallonetto tiro cross da parte di Leo sfera che termina sul fondo batte andretta c'è una sostituzione sulla panchina di 10 più esce entra il numero 45 si tratta di Alessandro Sellitti ed esce senatore tiro molto corto c'è l'avanzata puoi in gioco il numero 6 la battipagliese avanza c'è un fallo punizione punizione a fuori della battipagliese quando mancano poco meno di 13 minuti alla fine della gara battipagliese che ci prova con Mastro il destro di Mastro pallone che termina a lato ottima l'iniziativa del giocatore fondo area andretta sul pallone il lancio pallone che termina fuori rimessa laterale la girata pallone in area di rigore romano ancora in gioco ottimo questo palleggio in area di rigore da parte di Pisaturo ancora Pisaturo in gioco colpo di testa di Pisaturo sarà che viene ribattuta fuori deviazione bianconeri davanti Menduto deviazione rimessa laterale batte Menduto pallone in area di rigore il cross di destro di Troiano colpo di testa finale attenzione battipagliese che va vicino al gol con Monetti il suo colpo di testa è stato strategico c'è il cross da parte della battipagliese ci prova il cross padrone che proviene ribattuto ancora deviato risultato comunque resta invariato 1 a 1 quando mancano poco meno di 10 minuti alla fine del secondo tempo poi ci saranno i tempi supplementali in caso di parità punizione a fuori di 10 più batte il portiere Andretta in lancio palla fermata ottimo l'intervento di Claudio Sellitti pallone fuori bianconeri in azione Mastro Mastro Lìa deviazione e riapre il gioco la squadra di calcio di noi in azione Pisaturo Romano in area di rigore attenzione Romano pallone in area di rigore interviene Andretta che blocca battipagliese vicino al gol di nuovo con il suo team d'attacco formato da Monetti Romano Mastro Lìa intanto il lancio oltre il centro campo pallone fuori rimessa laterale Leo recupera molto bene si gira e lancia Mastro Lìa verso l'area di rigore Mastro Lìa in gioco Mastro Lìa il cross interviene dalle retrovie il numero 3 Pisaturo secondo l'arbitro si continua a giocare nella regolarità Leo tiro finale vicino al gol Leo molto intelligente molto intelligente in quanto ha visto il portiere fuori dalla porta non ci ha pensato due volte e ha tirato tentando di spiazzare lo stesso quindi corner il destro interviene Andretta che spazza via Romano e Romano alla fine la palla termina fuori ormai siamo al termine mancano poco più di 6 minuti alla fine del tempo regolamentare Andretta sul pallone il destro bianconeri che avanzano il lancio in verticale pallone fuori pallone fuori si continua a giocare Troiano pallone per Mastrolia Mastrolia stava per chiudere il risultato vicino al gol la battipagliese e si riparte con un fondo aree il lancio bianconeri in azione pallone per Cerrato Cerrato la sfera per Mastrolia ancora in gioco Mastrolia il cross per Romano e per Monetti palla ribattuta Leo c'è un fallo punizione pallone in profondità sarà che termina al portiere a Mendola pallone verso il centro campo grande giocata grande giocata devo dire la verità il dribbling da parte del giocatore della battipagliese ecco le immagini si tratta di Pisaturo intanto Andretta pallone nelle mani cerca di lanciare la sera oltre al centro campo mancano poco più di 4 minuti alla fine poco meno di 4 minuti alla fine della gara siamo al 31esimo minuto e 20 secondi si ferma intanto il gioco giocatore a terra per stanchezza intanto si riparte Sellitti in gioco il lancio in profondità pallone fermato dalla battipagliese Leo sfera che termina fuori di noi in azione pallone per Sellitti si procede una verticalizzazione la sfera in area di rigore viene fermata da Nicoletti ancora in gioco la battipagliese che si ripropone la girata molto bella quella di Pisaturo ancora in gioco la squadra bianconera con Nicoletti bravissimo la sua avanzata c'è la fuga attenzione 10 più pallone poi che col colpo di testa viene demandato al portiere pallone fuori intanto c'è il controfallo pallone in area di rigore ci prova 10 più pallone in area di rigore sfera che poi viene fermata da Mendola battipagliesi in azione il dribbling da parte di Cerrato in avanti la squadra 10 più Sellitti attenzione tiro finale vicino al gol è terminato il tempo regolamentare l'arbitro quanto pare ha dato anche i minuti di recupero che comunque sono irrisori rispetto diciamo a quello che si potrebbe fare in azione pallone in area di rigore per la squadra 10 più con Contaldo con in azione 10 più pallone che termina a lato secondo l'arbitro è corner 10 più in azione tiro finale pallone alto sulla traversa azione comunque che ha tenuto in piedi tutta la difesa bianconilla della battivagliese intanto ci si lancia in avanti pallone ancora in gioco con i bianconeri in azione pallone in profondità Nicoletti Mastrolia Mastrolia pallonetti in area di rigore cerrato vicino al gol viene ben servito dal giocatore Mastrolia corner dalla banderina Leo il destro Sfera finisce la gara Mastrolia